Hai visto quante bellezze a Napoli? Guarda, nonno, guarda qua. Mamma mia, com'è bella la nostra città. Nonno, fa caldo. Sì, ti voglio bere qualcosa. E allora ti porto in un altro bel posto della nostra città. Storico! Dicevo che in questo magnifico caffè, tanti anni fa, mi è accaduto qualcosa di magico. E lo respiro tutt'ora. Era una calda mattina d'estate di molti anni fa. Mi sedetti al mio solito tavolino leggendo il giornale. Quando vidi un ventaglio cadere a terra vicino a me, mi abbassai subito per raccogliermi. Quando alzai lo sguardo, rimasi letteralmente impietrito, bloccato. Passammo un'intera ora a parlare. E sembrava che ci conoscessimo da sempre. Io non dimenticherò mai. Mai quel tempo passato insieme a lei. E però no, che fin'ha fatto questa signora? Questa signora adesso è a casa e ci sta preparando un bellissimo pranzo.